Via la torre dall'agraria e non solo a parole ma anche nei fatti. Questa è la richiesta messa per iscritto che il PDL rivolge al sindaco Gaspari. I consiglieri facenti capo alla coalizione di centro-destra hanno sottoscritto un ordine del giorno con il quale chiedono che la torre scompaia anche dalla variante al PRG che era stata redatta, come era stato promesso del resto dal sindaco Gaspari nel corso di una riunione con i cittadini del quartiere, tutti preoccupati da un manufatto di altezza eccessiva ed enorme impatto visivo che potrebbe andare a rendere ancora meno a meno il panorama della Santissima Annunziata. Rendere definitivo quell'impegno che è rimasto delle parole, farlo diventare definitivo e quindi stralciare dalla variante che fu fatta, che prevedeva la possibilità di realizzare edifici con altezza di 48 metri, stralciare proprio questa possibilità e far tornare tutto come era in origine, cioè con la possibilità di costituire edifici dell'altezza massima di 18 metri quadrati. Insomma il monito di Gabrielli e più in generale del PDL è rivolto al primo cittadino di San Benedetto affinché mantenga le promesse fatte al quartiere e dunque stralci dalla variante questo edificio a 13 piani. Di questo sicuramente gli abitanti della Galaria ne sarebbero ben lieti e per questo ovviamente spero che si abbia un'approvazione un'anima da parte di tutti i consiglieri. E ora la palla passa a Gaspari che potrà decidere di cancellare la torre o continuare con il suo contorto ITER.